Ciao ragazzi, bentornati al mio canale, sono ASMR SLK, nel video di oggi parliamo di Formula 1, parliamo dell'ultimo Gran Premio appena accaduto a Monaco e parliamo in particolare della Ferrari, non sono molto contento, ve lo predico, però ovviamente parliamo un po' di tutto quello che è successo. Allora ragazzi, prima di iniziare, le solite raccomandazioni nella descrizione di questo video oggi sono differenti link, alcuni per aiutare il canale economicamente come quello di Amazon, potete usarlo cliccando su questo link, vi fa entrare su Amazon e poi fate il vostro login normale e fate le spese che dovete fare, ovviamente non c'è nessun costo aggiuntivo per voi, ma aiuta in piccola percentuale questo canale. inoltre ci sono altri link dove ci sono i miei altri canali YouTube, tra cui quello che sto spingendo adesso più di tutti, Music & Gaming, dove non sto facendo le live di gare, Formula 1, GT3 e GT4, perché sono finiti i campionati che rinizieranno a presto, ma questa settimana, massimo la prossima, credo più questo fine settimana, posteremo il primo video della SLK Virtual Band con il pezzo Killing in the Name di Rage Against the Machine e devo dire che sta avvenendo un bel lavoro, tutte le registrazioni sono arrivate, sto lavorando sull'audio e sul video di questa cover, di questo video e insomma siamo a buon punto, penso di riuscire a farlo a fine settimana o male che va, probabilmente settimana prossima, diciamo intorno a metà settimana prossima, però insomma siamo arrivati, siamo quasi pronti per iniziare a postare, i ragazzi stanno già lavorando sul secondo pezzo praticamente, o quasi, ho già avuto alcune registrazioni del secondo pezzo, quindi questa collaborazione chiamata SLK Virtual Band sta andando molto bene e sicuramente vedremo dei buoni risultati. Inoltre purtroppo ancora non trovo nessuna casa di distribuzione online per quanto riguarda i file ASMR online, quindi per ora troverete sempre gli stessi file su Shopify e su iTunes. Per quanto riguarda gli episodi del come diventare un imprenditore, ci saranno altri episodi che verranno, non so se questa settimana, è già venerdì o massimo la prossima settimana. Inoltre una novità è che sto cercando di configurare una parte di YouTube che sarà ristretta a chi è iscritto e a chi pagherà una piccola cifra, credo che sarà intorno a 1,99$ al mese, dove farò praticamente dei video, farò vedere dei video che normalmente non vedete, cioè quello che faccio, tutto il background dietro le tende, dietro il zipario, di quello che succede nell'ASMR SLK e anche quello che succede per quanto riguarda gli altri canali, quindi un po' tutto come gestisco i canali YouTube, quello che faccio, il CEO, le varie ricerche, il modo di creare nuovi video, un po' l'attrezzatura, quindi tutto quello che riguarda questo canale, questi canali YouTube, tutti i miei canali YouTube saranno, praticamente registrerò questi video in cui vi faccio vedere esattamente quello che faccio per creare questi video sia in ASMR sia negli altri canali, quindi vi farò sapere a presto, sto incominciando ad organizzare questa situazione anche e vedremo se la risposta di voi, i miei iscritti sarà positiva, ho ricevuto molte richieste per questa cosa, inoltre anche perché essendo una pagina un po' privata, un circolo un po' privato, ovviamente si possono dire anche cose in più che purtroppo molto spesso non posso dire nei video pubblici, quindi ovviamente anche per informazioni riguardo ai trasferimenti qui in America o altre immigrazioni in Europa o altri posti, ovviamente potrò darvi anche molte più informazioni, ok? Allora detto questo direi che abbiamo finito con le raccomandazioni e direi che potete abbassare un attimino il volume delle vostre coffiette perché inizierò a fare il conto alla rovescia per il famoso secondo spot, considerando che il primo è stato fatto probabilmente quando avete cliccato per vedere il video. Allora inizio col conto alla rovescia, 3, 2, 1, spot. Allora come vi ho preditto in questo video parleremo un po' del Gran Premio di Formula 1 di Monaco, più che altro, più che della gara, qualche parola non la spendiamo sulla gara, ma sicuramente parliamo molto più specificatamente della Ferrari, sono sinceramente un po' arrabbiato perché per tanti motivi, adesso le svisceriamo un po' tutti quanti, non dimenticando di dirvi come vedete qui in alto c'è un microfono che sto usando per le registrazioni della SLK Virtual Band, ok? Dunque il Gran Premio di Monaco che ovviamente è uno dei Gran Premi più importanti del campionato e più belli in assoluto, no? è una gara che è veramente difficilissima per i piloti, io stesso che la faccio normalmente nel gioco di Formula 1 2020 con il simulatore, è una gara che richiede un'attenzione e una concentrazione assoluta, continua per tutta la lunghezza dei 78 giri e non solo, anche il giro di ricognizione e anche il giro di rientro ai box per non sbattere sulle barriere, perché stiamo parlando di macchine che vanno fortissimo, che sono molto delicate, che la fibra di carbonio e tutta la scocca della macchina è disegnata per assorbire gli incidenti, soprattutto dal punto di vista, diciamo, della direzione longitudinale, frontale o comunque un po' trasversale, ma questo carbonio che è forte in questa situazione è molto debole per quanto riguarda i colpi laterali, cioè costruiti in un modo che anche rompendosi assorbe l'energia della botta e quindi salva il pilota, però soprattutto come vedete nei braccietti delle ruote, sono specificatamente costruiti per resistere a queste forze longitudinali verso la macchina, sia dell'aria e sia dell'asfalto, ma anche verticalmente, tant'è vero che sono fatte anche a livello di costruzioni con una forma aerodinamica, non sembrano proprio delle lissi, ma per quanto riguarda le botte laterali sulle ruote ovviamente sono un po' più fragili, quindi il circuito di Monaco, per chi non lo conoscesse, basta che guardate un po' di immagini di Formula 1 a Monaco, vi rendete conto che è una gara dove tutti i piloti, per primo il grande Schumacher disse e anche il grande Senna dissero per vincere Monaco bisogna prima finire la gara, ed è una cosa sacrosanta perché io stesso, dicevo prima, sulla simulazione e sul gioco di Formula 1, nonostante abbia il simulatore, abbia la posizione Formula 1, insomma è abbastanza, tutta la guida che faccio abbastanza concentrata su quello che sto facendo, ma basta una piccolissima distrazione di una frazione di secondo per frenare un metro troppo tardi, un metro parliamo, un metro a 150-200 km orari è praticamente un millesimo di secondo e si va lunghi e si toccano le barriere del circuito di Monaco e come minimo si rompe l'ala anteriore se non si è più sfortunati, come è successo anche a Leclerc di toccare il primo guardrail sulla destra di quella chicane che ha completamente scomposto la macchina e ha rotto i progetti della ruota e quindi lui nella seconda curva è andato praticamente dritto e è andato a sbattere contro le barriere e una volta ha sbattuto non solo la parte frontale della macchina ma anche la parte posteriore, adesso parleremo anche di questo, comunque sia essendo una gara così difficile e così importante è ovviamente importantissimo che si careggi perché è una gara che comunque anche se non si arriva a punti è una gara che dà tantissime soddisfazioni, è una gara importantissima dove ci sono gli occhi puntati di tutto il mondo e forse anche di più, forse anche degli extraterrestri per farvi capire. Detto questo capite bene che il mio pensiero è che la Ferrari avrebbe dovuto correre in ogni caso, quindi adesso poi sficerirò il problema e quello che hanno detto che mi sembra un pochino diciamo così, diciamo falso per non esagerare in queste situazioni, sono un po' arrabbiato ma ovviamente questo non è un video dove sfocare le arrabbiature, è un video per rilassare, quindi parleremo un po' di tutta la situazione vediamo se siete d'accordo nel mio pensiero. Ora la gara di Monte Carlo è una gara come dicevo lunghissima, sono 78 giri e le caratteristiche della macchina sono molto importanti, il setup che si fa sulla macchina prima di partire è veramente fondamentale, le macchine sono molto più alte del normale, sono proprio settate più alte dal suolo, dall'asfalto perché in questo modo si riesce ad avere molta più sospensione per poter guidare e frenare continuamente, ci sono tantissime cambiate in questo circuito, tanto è vero che essendo talmente corto e talmente stretto, tanto è vero che alcune macchine come per esempio la Mercedes e veramente molte altre non usano nemmeno l'ottava marcia, limitano il computer del volante alla settima marcia perché non hanno proprio la distanza per poter sfruttare questa marcia, questa ottava marcia, ovviamente dipende dalla marca della macchina, quale macchina stiamo parlando, alcune la usano, alcune no, ma è un circuito con tantissime curve, veramente strettissimo, dove è difficilissimo sorpassare, a meno che quello davanti a voi non vi lascia passare perché è veramente più lento per non bloccarvi o perché c'è una bandiera blu, quindi dovete lasciare spazio, non si passa in questo circuito, quindi chi riesce a qualificarsi davanti a tutti ha praticamente il vantaggio di poter andare quasi alla velocità che vuole e tenere tutti dietro tranquillamente, questo è veramente una cosa fondamentale di Monaco, il problema è che bisogna finire la gara per poter acquisire i punti e nonostante queste macchine, soprattutto in questi ultimi due anni, sono molto più guidabili delle macchine di prima perché a livello proprio telaistico e di ruote e di sospensioni sono veramente delle genialità di ingegneria e devo dire sono state migliorate tantissime anche a livello proprio di guidabilità, i piloti riescono molto più facilmente, tra virgolette facilmente a guidare queste macchine, poi ovviamente quando si arriva al limite c'è un punto che di mezzo tra la guida normale e il limite che è oltre, quindi si va fuori pista e in quel limite questi piloti guidano quasi sempre praticamente, però in questo circuito non c'è riposo, non c'è un attimo addirittura nemmeno per settare i vari comandi di cui abbiamo parlato nel video del volante, quindi la frenata, la sospensione, ci sono pochissimi attimi per fare alcuni settaggi nel cortissimo rettilineo della partenza, dopodiché praticamente si pensa a guidare, a impostare la curva e a frenare al momento giusto perché non si ha il tempo proprio di fare nulla, perché si va talmente veloci che il circuito è talmente corto che è la prossima curva tra una curva e l'altra, insomma ci sono praticamente 1, 2, 3 secondi di rettilineo, dopodiché a parte il rettilineo principale della partenza che mi sembra siano 7 secondi, il resto sono 2, 3, 1, 3, 4 secondi prima di ogni curva e poi c'è il tunnel, tunnel che ovviamente queste macchine fanno praticamente a flat out, cioè a pedale al massimo ed è in discesa e il problema di questo tunnel è che soprattutto in giornate come quella del Gran Premio passato dove c'è molto sole o nelle qualifiche c'è un problema proprio di luce perché entrare in questo tunnel da un vantaggio aerodinamico perché si va molto più veloci ma è talmente corto e questo vantaggio è relativo, però entrare in questa galleria significa passare dalla luminosità del sole fortissima al buio della galleria a velocità impressionante perché stiamo parlando di 200-240 km orari in questa galleria e poi si esce con il sole in faccia per frenare alla chicane successiva e questo abbagliare del sole è veramente uno dei problemi più grossi che tutti i piloti di cui ho sentito interviste insomma tra virgolette si lamentano ma insomma fanno capire che è molto difficile uscire di rifucare gli occhi e concentrarsi sul punto di staccata che è veramente molto, arrivando molto veloce, è veramente molto difficile e non si può sbagliare se altrimenti si va lungo in questa chicane che si fa in prima, sinistra-destra veramente molto importante in cui se non si frena a tempo giusto e non si arriva alla velocità giusta si perde tantissimo tempo in uscita perché la macchina se si va lunghi non si riesce a metterla abbastanza dritta per riaccelerare e quella riaccelerazione è veramente importante per poi arrivare alle curve delle piscine che sono veramente uno dei punti più veloci del circuito, cioè si va quasi a palla curvando sinistra e destra ma ovviamente come sapete se si esce lenti da una chicane, poi tutto il tempo perso in questa chicane viene perso continuamente in tutte le parti veloci del circuito, comunque sì la gara è stata comunque emozionante anche se non ci sono stati tantissimi sorpassi, ci sono stati insomma tantissimi avvenimenti, normalmente Monaco è una gara in cui ci sono tantissimi ritiri, domenica invece c'erano stati un paio praticamente, quello di Bottas in cui praticamente ho sentito l'intervista di Wolf che diceva che un po' è colpa di Bottas perché si è fermato troppo presto, non so se ne sapete ma quando ci si ferma i box per il cambio gomme le macchine hanno dei segni sull'asfalto dove devono esattamente mettere le ruote e i meccanici si settano in posizione proprio in questi segni, in modo che se il pilota si ferma esattamente su quei punti sono già pronti a inserire la pistola per svitare la ruota, ok? Mentre invece Wolf diceva che Bottas si è fermato un attimino prima per cui i meccanici per non spostarsi con le gambe hanno, con il meccanico in particolare ha inserito la pistola a pressione per svitare il bullone con una certa angolatura e chiaramente con le forze che bisogna usare per svitare quei bulloni, perché c'è un bullone solo sulla ruota di Formula 1 che è veramente strettissimo automaticamente, la pistola con la forza che ha mangiato i bote del bullone, quindi dopo la prima prova non aveva più attacco per svitare il bullone ed ecco perché Bottas si è dovuto ritirare, abbiamo visto anche delle immagini il meccanico provare attua tre volte, ma ovviamente una volta mangiati i spiccoli del dato del bullone è andata, è fatta la frittata, quindi Bottas si è ritirato. Ora ovviamente non è che Wolf, Toto Wolf ha dato la colpa a Bottas, ma nel dire questo ovviamente gli ha dato un po' di colpe, ma vi posso assicurare che i freni di una Formula 1 funzionano benissimo a certe velocità e a certe temperature, ma in un circuito come Monte Carlo dove i freni sono usati spesso, anche se hanno altissime velocità, le temperature di questi dischi dei freni sono veramente molto diverse da quelle che si hanno nei circuiti normali, quindi quando si va a velocità bassa, ma questo non solo in questo circuito in generale, quando i dischi dei freni in carbonio di queste macchine Formula 1 sono freddi, anche al minimo della velocità non c'è una risposta normale, non c'è una risposta molto ritardata, ed ecco perché molti piloti cercano di frenare prima e si fermano un po' prima o un po' dopo questi punti nel box, non è una cosa facile, tenete presente che per fermarsi con la macchina Formula 1 bisogna schiacciare sul pedale del freno con una forza che va tra i 60 e i 100 kg col piede, quindi non è che, insomma è una cosa molto semplice, non stiamo parlando dei freni della macchina di casa, che basta toccarli e premere un po' è la macchina freno, qui stiamo parlando di piloti che lasciano un pochino di cintura di sicurezza libera per usare il loro peso del corpo per schiacciare il pedale del freno, perché col piede e con la gamba non ce la fanno, perché alle massime velocità bisogna schiacciare, normalmente nel macchina Formula 1 quando si arriva da un rettilineo a 350-340 all'ora, si dà una pigiata sul freno fortissima e poi piano piano si modula per frenare sempre di meno in modo da non bruciare i freni e da ridurre l'attrito delle pinze sui dischi in modo che le ruote non si bloccano e questa pigiata forte, più o meno 100 kg di sforzo non è una cosa molto semplice, molti piloti sono anche piccoli e quindi usano il loro peso del corpo per dare questa pigiata, comunque tutto questo per dire che fermarsi su questi punti dei box esattamente quando ci si ferma tra l'adrenalina, tra la voglia di ripartire perché si perde tempo nei box e ci si ferma durante la gara, è veramente difficile azzeccare questi punti esatti dove mettere le ruote, quindi io non darei la colpa a Bottas assolutamente perché è un errore che fanno tutti i piloti nei box, non solo lui, chi si ferma prima che si ferma dopo, ogni tanto si ferma dal punto giusto, non è una cosa molto semplice tanto è vero che molto spesso abbiamo visto incidenti nei box, tipo anche il ragazzo che alza la macchina davanti, essere proprio colpito con il cric mentre lo alza dalle macchine perché? Perché fermarsi a quelle velocità, i freni delle Formula 1 non sono fatte per frenare alle velocità di 10 km, 20 km all'ora dei box, sono fatte per fermarsi a 200, 300, 150 quando sono fatte per fermarsi a velocità molto più alte, che devono avere temperature più alte, quindi quando si scaldano l'effetto frenante di questi freni è veramente molto funzionale, quando i freni sono freddi è veramente molto relativo, anche schiacciando tanto la macchina non frena. Allora parliamo un po' della gara in generale, è una gara che mi è piaciuta, che ovviamente mi ha divertito molto, sono un po' dispiaciuto che Ricciardo purtroppo il mio pilota preferito di cui faccio il tifo, come sapete che ho incontrato non è riuscito ad arrivare a punti perché non aveva abbastanza ritmo per arrivare a punti, ma un po' è perché chiaramente è il nuovo della macchina, un po' perché a Monte Carlo non è un circuito normale, è un circuito come dicevo prima in cui il setup e lo stesso telaio della macchina fa tanto, tanto è vero che molte macchine che normalmente sono negli ultimi posti, nei circuiti normali, ad esempio la Ferrari, in questi circuiti vanno molto bene, perché? Perché alcune macchine che hanno il motore meno potente come la Ferrari che anche se quest'anno ha migliorato ha un motore molto più scarso degli altri e la prova è stata proprio qui a Monte Carlo, tanto è vero che la Ferrari era velocissima, avrebbe potuto vincere la gara o comunque acquisire tantissimi punti che significano soldi nel linguaggio Formula 1 e sicuramente per battere le dirette concorrenti come per esempio McLaren perché Richard ne è riuscito ad arrivare a punti, Norris sembrava ok ma anche lui ha avuto problemi di gomme perché come dicevo prima il telaio della macchina, il setup della macchina in questo circuito è fondamentale ed è un circuito in cui le gomme sono veramente super sfruttate perché non hanno tempo di raffreddarsi, quindi mantenere le gomme non hanno tempo di raffreddarsi perché ci sono tantissime curve, tantissime accelerazioni frenate e curve strette a gomito e queste gomme ovviamente funzionano come anche i freni a determinate temperature, a un certo range di temperature, se la gomma va fuori di questo range di temperatura troppo bassa o troppo alta o non ha più grip, se va troppo bassa temperatura o se va troppo alta si brucia e fa degli effetti proprio che non danno grip anche in questo caso, per cui è veramente importante trovare un setup che usi le gomme nella maniera giusta per tenerle in questo range di temperature, cosa che non è difficile ed ecco perché molte macchine famose, compreso Hamilton, non hanno avuto il passo per stare avanti, per vincere la gara o per prendere punti come la McLaren di Ricciardo e come la Mercedes di Hamilton che è arrivato in metà, ha preso punti ma a metà classifica sembra settimo o sesto settimo. Comunque sia, questo è il punto, la gara di Monte Carlo è una gara molto particolare, non basta essere bravi come piloti, ci vuole anche una concentrazione mostruosa. Ora, quello che è un po' successo nella Ferrari è che la Ferrari, proprio perché anche quest'anno ha un motore che non è in grado di combattere con gli altri, che che ne dicano quelli della Ferrari, hanno fatto sicuramente grossi passi davanti, ma non sono ancora la Ferrari che dovrebbero essere, perché la Ferrari che dovrebbero essere la Ferrari che dovrebbe essere la terza forza lì davanti insieme a Red Bull e Mercedes, ok? Questo è da anni. Ora, anche se il motore è stato un po' sistemato eccetera, ma la macchina non è ancora a livelli di come dovrebbe essere, questa macchina ha un avantreno, cioè le ruote davanti sono molto precise, hanno fatto un grandissimo lavoro con l'avantreno di questa macchina, ed ecco perché nel circuito di Monte Carlo la Ferrari è andata benissima, perché? Perché anche se non avevano tanta potenza come motore, cioè non hanno la potenza degli altri, a Monte Carlo non è importante questa potenza, perché oltretutto è più importante divulgare questa potenza sulle ruote motrici con una dolcezza maggiore, in modo da evitare che le gomme sgommino e quindi poter guadagnare più terreno, quindi più morbida è la potenza che si dà sulle ruote di dietro, è migliore, sono i tempi che si fanno nel circuito. Questo aggiunto a un avantreno della Ferrari che quest'anno hanno fatto un grosso lavoro e che è molto preciso, anche a dettagli tutti i tuoi piloti, sia Sainz che Leclerc, è molto preciso, ha dato la possibilità, come avete visto, in qualifica a Leclerc, praticamente quasi o probabilmente quasi sicuramente di acquisire la pole position, che non è una cosa da poco a Monaco, è veramente molto importante, quindi si è visto subito che le due Ferrari, non tutte e due, avevano un grosso pace, un grosso passo in questo circuito e Leclerc probabilmente finendo il giro in cui è andata a sbattere, probabilmente potrebbe aver anche mantenuto la pole position, anche se arrivavano i pezzi da 90 come la Red Bull e come lo stesso altro Ferrari con Sainz. Ora, che abbiano tenuto o no la pole position non è un grosso problema, perché a Monte Carlo arrivare tra i primi sei significa, nella qualifica, qualificarsi tra i primi sei significa arrivare sicuramente a punti, a meno che non si rompa la macchina o non si fa sbattere e si combatte per arrivare in podio. Ora, la diretta concorrente della Ferrari è la McLaren, ovviamente si è visto già in queste prime gare, quindi riuscire a finire la gara con tutte e due le macchine a punti per la Ferrari sarebbe stato un grosso distacco dalla McLaren come vantaggio, come punti rispetto alla McLaren, che ovviamente punti che a fine anno significano soldi, vi ripeto, questo è quando parlo di soldi, non parlo di bruscolini, parlo di centinaia di migliaia di dollari, se non milioni alla fine di campionato. Comunque sia, ora, Leclerc purtroppo ha avuto questo problema che per tentare di migliorare il suo tempo ha anticipato in questa chicane delle piscine con la ruota anteriore a destra, ha colpito la prima barriera a destra, quindi una volta rotta la ruota è andata a sbattere contro le barriere della seconda curva di questa chicane. Ora, si sono dette, ho visto tante interviste, ho visto tanta televisione, ho visto un po' di video che, devo dire in inglese però, quindi immagini prese da tra virgolette commentatori che non sono di parte, cioè che non sono italiani e quindi insomma ho cercato di acquisire un po' tutte le notizie che potevo, ovviamente voi dall'Italia potrebbe essere che avete anche notizie in più, ne dubito perché secondo me in questo caso la Ferrari sta dicendo un sacco di bugie, non vuole dire che è successo perché capisco che magari qualcuno ci vale di mezzo, però come a livello di principio una gara come Monaco, dove oltretutto la Ferrari è famosissima, è una gara in cui puoi veramente essere davanti, fare punti, fare podi, un anno in cui non sarà un grosso anno per la Ferrari e il circuito in cui sanno benissimo che andranno benissimo perché ovviamente le macchine e le compagnie di Formula 1 hanno simulatori, hanno computer che vi dicono esattamente quasi al millesimo cosa succederà nel circuito, l'unica cosa differente è il pilota, ma per quanto riguarda la progettazione e la costruzione della macchina sanno già queste aziende, Mercedes, Ferrari, Red Bull, tutte quante, Alfa Romeo, dove andranno forte e dove non, perché tramite i dati, tenete presente che le macchine Formula 1, questo lo dico per quello che dirò dopo, hanno da quella meno costosa, quella più costosa che chiamo la Mercedes, da 200 a 300 sensori che sono suddivisi in tutta la macchina, tant'è vero che vi dicono anche se avete l'alettone rotto questi sensori, quindi parliamo del danno dopo, ma capite bene che con tutti questi sensori ogni macchina trasmette ai computer della compagnia in fabbrica migliaia, credo che ogni gara sia in circa un giga e due di dati da considerare per guardare la macchina, per capire come è meglio settarla, per capire qual è il circuito migliore, per capire quali sono le come migliore, per capire che ali impostare, per capire il bilanciamento della macchina, per capire come guidare, quindi io posso capire che Ferrari voglia non dire nulla, ma tutti questi dati vi avrebbero dovuto far capire che cosa era successa alla macchina, perché ora la discussione è stata questa, con l'impatto probabilmente poteva essere rotta il cambio, che ovviamente come dicevo prima, queste macchine dal punto di vista delle forze laterali sono molto sensibili, quindi anche quella piccola botta, tra virgolette piccola botta del posteriore della Ferrari di Leclerc sulle barriere, l'anteriore è stata molto più forte, ma il posteriore un pochino più morbida, tant'è vero che a quello che dicono loro il cambio non era rotto, succede che la ruota sbattendo sulla barriera spinge l'asse dentro il cambio, la scatola del cambio, quindi chiaramente è facile che si rompa, si rompono cuscinetti, si rompono scatolette dentro, ogni cambio è fatto di tantissimi ingranaggi, quindi basta una piccola botta per già fare uscire un ingranaggio fuori centro per esempio e già siamo in problemi. Ora, la logica per quanto riguarda Monaco è che tu non puoi non correre a Monaco, è la gara più importante del campionato a livello di Clemoro, a livello di pubblicità, a livello di vendite e a livello in questo caso, come dicevamo, di punti per la Ferrari, perché hai due macchine che sono molto competitive, l'hai visto dalle prove lippie, l'hai visto dalle qualifiche, l'hai visto dai dati che hai già scaricato, quindi in generale, anche se come idea Ferrari avrebbe dovuto cambiare il cambio in generale, perché anche se prendi 5 penalità di penalizzazione, di posizione sulla griglia di partenza, parti comunque quinto o sesto, partire sesto con la macchina che va così forte significa arrivare a punti se non arrivare a podio, come è successo a Sainz, ok? Sainz è arrivato secondo e con Leclerc, anche partendo dietro di lui, saresti arrivato secondo e terzo, se qualcosa fosse successo un po' più fortunati anche i primi, ma comunque sia, avrebbero preso tantissimi punti, molto di più delle concorrenti a livello costruttori, ok? Come ripeto, questi punti a livello costruttori significano soldi, ok? Speramente tanti soldi a fine anno, quindi comunque sia, io come idea avrei fatto il cambio della scatola del cambio e nel fare il cambio della scatola del cambio ovviamente controllo il resto della macchina, loro dicono che anche avendo cambiato il cambio non avrebbero visto il danno, perché non era parte del danno, ma scusatemi, ma qui stiamo parlando di alta ingegneria, di 200-300 sensori sulla macchina, di gente che ha delle scatole così grosse per costruire quelle macchine e mi venite a dire che uno dei meccanici della macchina non andrebbe a controllare anche la ruota sinistra se ci sono problemi dopo quell'impatto e proprio, e questo significa dire, è proprio bugia alla grande, perché io stesso che sono un tecnico elettronico e un po' abbastanza ferrato sulla meccanica, se ho un problema la macchina vado a controllare tutti i punti che possono essere, diciamo, inclusi in questo danno, ok? Tutti i punti della macchina, le ruote, i freni, quello che poteva essere anche l'avantreno e anche il fondo della macchina, queste sono persone il cui lavoro è controllare tutti i minimi dettagli di quelle macchine, quindi non mi venite a dire che non avrebbero visto il danno, questo ho sentito dire dai giornalisti, che la Ferrari ha detto che anche avendo sostituito il gearbox, la scatola del cambio, probabilmente non si sarebbero accorti del danno che poi ha fatto ritirare la claire prima del Gran Premio, ma è un'assoluta bugia ragazzi, perché meccanici e geni che lavorano nella Ferrari e in tutto il mondo della Formula 1 non si fanno fregare da un danno, diciamo, a 10 cm dal danno successo, perché chiunque è un tecnico meccanico, elettronico, idraulico, sa che a quelle distanze controlli anche le altre parti, proprio la base di essere un tecnico e di essere un ingegnere, ok? Chiaro. Poi la scelta di non fare il cambio, di sostituire la scatola del cambio, ci può anche stare, magari i dati hanno detto che è ok, ma sinceramente per mantenersi in pole position ci può anche stare, ok? Anche se una decisione limite è che in una situazione del genere con tutti i vantaggi di avere due macchine nelle prime sei posizioni, in un Gran Premio di Monaco è una scelta che non andava fatta, conveniva andare a cambiare la scatola del cambio e rimanere nella griglia di partenza, nelle prime sei macchine che significa arrivare probabilmente in podio o quasi alla vittoria, o probabilmente alla vittoria con un po' di fortuna. Quindi ammesso che si sia deciso di mantenere il cambio, io credo che qualunque meccanico della Ferrari, ma anche il meccanico sotto casa mia, avrebbe controllato tutti i due semiassi e chiaramente tutti gli attacchi dei semiassi dell'altra ruota, la ruota di sinistra e la ruota di destra, come hanno controllato anche le ruote di fronte, no? Perché non è che hanno preso la macchina, l'hanno portata in garage e hanno sostituito tutti i braccietti della ruota destra, che se la rotta è della ruota a posto, è finito lì, no, hanno controllato il cambio, hanno controllato tutti i pezzi uno per uno, come si fa in generale e come si fa soprattutto in un garage di Formula 1, ragazzi, mi sembra abbastanza chiaro, quindi ora il problema è successo, Amen è successo, finisce qua, però sta di fatto che questi errori, stanno esagerando con questi errori, soprattutto in una situazione come Monaco, non si fanno questi errori, un team che deve vincere il mondiale, che deve lottare per centesimi di millesimo per arrivare prima e non può fare questi errori, fin quando si fanno questi errori non vinceremo il campionato, considerate anche che la Ferrari, e l'ho dimostrato proprio ieri, ha un pilota che probabilmente in questo momento è il pilota più forte di tutta la Formula 1, perché secondo me l'Eclerc è molto meglio di Verstappen, anche a livello di pilota è più continuo e adesso Verstappen sta crescendo e sta migliorando, quindi sta arrivando ai livelli veramente ottimi, ma sta di fatto che è ancora un ragazzotto e che è pericoloso, perché per me Verstappen è pericoloso, fin quando è lì davanti, bene o male, ma quando si trova a lottare anche dai sorpassi che fa è veramente molto pericoloso, secondo me l'Eclerc è molto meglio di Verstappen, è molto meglio di Hamilton, mettete l'Eclerc sulla Mercedes e Verstappen non ha speranze adesso di vincere il campionato, quindi detto questo e considerando anche che Sainz, sapete benissimo che aveva preferito che la Ferrari avesse preso Ricciardo, ma comunque sia, Sainz e Ricciardo sono più o meno lì, Sainz è un grosso pilota, tutti i piloti Formula 1 sono grossi piloti in confronto a noi umani, sono extraterrestri, tutti quanti, compreso lo stesso Giovinazzi che magari ha fatto qualche errore, ma vi assicuro e lo ha dimostrato in questa gara di Monaco che è un gran pilota. Ora, però, tra questi grandi piloti, secondo me l'Eclerc è quello che è il più forte di tutti, è messo su una macchina che cammina, la dimostrazione è stata proprio che su Monaco vincerebbe tranquillamente il campionato mondiale e sicuramente lui, il predestinato, come lo chiamano in Italia anche i commentatori. Il problema è che la Ferrari deve riorganizzarsi veramente bene, sicuramente sono cambiate tante cose, ma questi errori sono errori da dilettanti per quanto riguarda la Formula 1, non voglio dire che sono dilettanti, voglio dire che in uno sport dove Mercedes, Red Bull e tutte le altre marche McLaren sono lì, tutte al massimo focalizzate, non si possono fare questi errori grossolani, tutte le aziende, tutte le marche fanno errori, tutti i meccanici fanno errori, tutti gli ingegneri fanno errori, tutti i piloti fanno errori, ma questi sono errori grossolani, errori di organizzazione, errori di, diciamo così, insicurezza e secondo me non vanno fatti, se si vuole pensare, di vincere un campionato mondiale o a breve tempo di tornare allo splendore di quello che dovrebbe essere la Ferrari, perché alla fine dei conti ci sta che anche in dieci anni purtroppo non si vince, però la Ferrari è la Ferrari, non è il triciclo, capito che è una nuova macchina, la Pravam o una di queste marche come la Williams adesso, è una marca che ha sempre lottato per il campionato mondiale, che è un nome famoso per quanto riguarda la velocità, quindi bisogna stare a certi livelli, ora magari puoi anche non vincere, ma almeno come è successo negli anni precedenti sei lì a lottartela con la Mercedes, perlomeno sei a livelli, poi l'errore ci può stare, ripeto, ma l'errore ci può stare in gara, ci può stare l'errore piccolo di un meccanico come quello di Bottas, ci possono essere tantissimi errori del pilota come quello di Leclerc, di andare a sbattere al muro, che ovviamente deve dare il massimo, ecco perché è andato a toccare il muro, non perché voleva fare il simpaticone, quindi se questa gente ci mette il massimo bisogna dare tutto il massimo e come compagnia, come dirigenza bisogna dare il massimo, quindi secondo me, questo è il mio parere personale ovviamente, poi fatemi sapere nei commenti che ne pensate o se avete magari altre informazioni che magari cambiano il mio punto di vista, però sono cose che non si fanno, non gareggiare a Monaco, non si fa, non si fa, è il circuito più famoso della Formula 1, più clamor, più professionale, più difficile, più spettacolare, si gareggia, non importa se parti sesto o da primo, non ha nessun senso, poi se si scopre che sia un problema nel giro di ricognizione prima del circuito, vuol dire che qualcuno non ha fatto il proprio lavoro, ma secondo me non è stato voluto far correre, c'è qualcosa che non quadra, perché ripeto, 300 sensori nella macchina, tutto il tempo di riparare la macchina, di provare tutti e di testare tutte le parti e si parte per il Gran Premio, si fa il giro di ricognizione e la macchina non va, secondo me c'è qualcosa che non quadra, ora che sia una mancanza di soldi, che sia un errore cross round di qualcuno, non cambia l'effetto di questa cosa, sta di fatto che un pilota migliore che probabilmente avrebbe vinto della Formula 1, avrebbe vinto a Monaco, non ha potuto correre, ora per una ragione o per un'altra c'è qualcosa che non quadra. Ora voi fatemi sapere nei commenti se avete qualche altra notizia, magari qualcuno di voi ha qualche contatto in Ferrari, magari qualche parola vola via, così magari io posso cambiare un po' il mio punto di vista, spero, perché ora come ora sono veramente tra virgolette amareggiato, perché sono proprio errori da squadra di Serie C nel campionato di Serie A, questo è il senso e non è una cosa bella ovviamente, soprattutto perché poi in questo caso le tue macchine andavano fortissimo, tant'è vero che Sainz ha fatto secondo proprio senza neanche sforzarsi più di tanto, perché è un circuito difficile dove veramente serve tutta l'unione della tecnica della macchina, del setup, del pilota, delle gomme, tutto deve funzionare, tutto, altrimenti non sia il passo per stare davanti, qui non è tanto il discorso di superare, il discorso è fare la qualifica al meglio possibile per stare più avanti possibile e per mantenere la posizione. E quando si è il passo come avevano le Ferrari, normalmente le macchine che hanno quel passo vincono a Monte Carlo tranquillamente, perché avevano anche più passo di Verstappen, secondo me soprattutto Leclerc l'avrebbe avuto, quindi è un'occasione persa, ma è un'occasione grossa, è un piccolo errore, ripeto come un meccanico, un piccolo errore di un pilota, è un errore grosso di un'azienda grossa, perché non correre a Monte Carlo è un errore grosso, bastava anche correre col triciclo, sarebbe stato meglio, ok? Va bene, ripeto questo è il mio parere, fatemi sapere cosa ne pensate, spero di avervi rilassato, vi ringrazio come sempre di essere qui ad ascoltare la mia voce e a guardare i miei video, vi ricordo che a breve usceremo con la SLK Virtual Band, probabilmente settimana prossima, o questo fine settimana, o inizio settimana prossima, età settimana prossima, e vi aspetto come sempre nei miei video, ciao a tutti, grazie di essere qui.